Coronavirus. Da domani tutta la regione entra in zona rossa. Nelle ultime ore sono quasi 3.000 i nuovi contagi e resta forte la pressione sugli ospedali. Noi siamo stati a vedere la situazione in Romagna con Francesco Rossi. La situazione è abbastanza critica nel senso che abbiamo avuto un numero di contagi molto alto negli ultimi sette giorni, oltre 800 in Romagna al giorno. Questo ha determinato una pressione forte verso gli ospedali. Già da una settimana la Romagna è zona rossa ma il virus continua a mordere. Nella seconda ondata il tetto era stato di 700 pazienti, ora siamo vicini e picco non pare raggiunto. La terapia intensiva è meno critica perché abbiamo ancora posti disponibili sull'attività, come dire, covid ordinaria, malattie infettive, medicina interna, subintensive, siamo abbastanza al limite. La recente attivazione di un nuovo reparto covid di circa 30 letti ha semplicemente tamponato una situazione rapidamente evolutiva. Nel giro di due giorni abbiamo saturato anche questo reparto. A Foli i pazienti covid rappresentano il 30% dei ricoverati, già pieni tutti i posti loro dedicati e anche nelle altre strutture romagnole non va meglio. È chiaro che se la pressione dovesse continuare in questo senso dovremmo per forza ridurre le attività ordinarie non covid. Pazienti anche gravi, sempre più giovani, colpa della contagiosità del virus, talora di comportamenti non adeguati, mentre a proteggere gli anziani stanno contribuendo i vaccini. I pazienti ovvero 80 sono davvero pochi. Adesso ritroviamo pazienti molto più giovani e che però arrivano con insufficienze respiratorie importanti. È tutto, buona domenica!